Buongiorno a tutti, sono Vincenzo Latagliata dell'Ufficio Prelievi di Acque Superficiali e Sotterranee della città metropolitana di Torino. In questo breve corso vi darò qualche informazione sulle derivazioni d'acqua e sulle modalità con cui vengono assentiti i prelievi idrici. In estrema sintesi l'intervento tratterà i seguenti argomenti. Che cos'è una derivazione, l'ambito di applicazione della normativa sulla gestione del demanio idrico, le diverse tipologie di assenso, l'utilizzo energetico delle acque che ha delle particolari implicazioni, in particolare per quanto riguarda le attività e le competenze dei comuni, il ruolo del comune appunto nel procedimento, il livello pianificatorio e i criteri di esame dei progetti. Una derivazione è definita ai sensi del regolamento regionale 10R del 2003 che disciplina i procedimenti di concessione di derivazioni d'acqua pubblica come un qualsiasi prelievo di acqua da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse. Come potete vedere questa definizione è la medesima sia che si tratti di un prelievo attuato tramite una semplice gomma da giardino che se il prelievo avviene tramite una grande diga. Ci sono poi delle variazioni a livello procedurale che trattano queste fattispecie in modo più o meno semplificato. Passando a vedere qual è l'ambito di applicazione della normativa sulla gestione del demanio idrico, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 10R del 2003, si può vedere come sono soggette a concessione tutte le acque pubbliche, superficiale e sotterranee con i seguenti casi di esclusione. L'utilizzo domestico delle acque sotterranee è prelevate tramite pozzo sorgente, purché la derivazione sia attuata dal proprietario del fondo con delle soglie di portata massima istantanea a pari a 2 litri al secondo e dentro un volume di 5.000 m3 annuo, con l'esclusione dell'utilizzo domestico delle acque superficiali scolanti su suoli o fossi o in canali di proprietà privata, dell'uso dell'acqua piovana raccolta in vasche cisterne, del riutilizzo delle acque reflu e depurate, dei prelievi ad uso collettivo, quali fontane, lavatoi pubblici e costituzione di scorta antincendio e i prelievi non destinati all'utilizzo della risorsa, quali possono essere gli ammungimenti per l'abbassamento della falda nell'ambito della gestione dei cantieri. Non sono invece soggette alle disposizioni regolamentari del regolamento di ICR 2003 le acque minerali e termali che sono invece gestite ai sensi di altra normativa regionale che è la numero 25 del 94. Passando a vedere quali sono le diverse modalità con cui la pubblica amministrazione può rilasciare l'assenso per l'utilizzo delle acque, vediamo che esistono 5 diverse fattispecie, il riconoscimento di antico diritto, la concessione preferenziale, la concessione ordinaria, l'autorizzazione all'uso plurimo e la licenza di attingimento. Per quanto riguarda i riconoscimenti di antico diritto, sono soggetti a questa fattispecie tutti coloro i quali hanno potuto dimostrare di avere derivato e utilizzato l'acqua pubblica per tutto il trentennio anteriore al 1884. Sono soggetti invece a concessione preferenziale analogamente coloro che utilizzavano le acque al 10 agosto 99, le acque che in precedenza non erano iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, ma che sono divenute pubbliche a quella data per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 1 della legge 3694, cosiddetta legge Galli. In precedenza erano considerate pubbliche ed erano soggette a regimi di concessione solamente le acque iscritte in specifici elenchi. Il termine ultimo per far valere il diritto all'ottenimento del titolo di riconoscimento di concessione preferenziale è scaduto il 31 dicembre 2007 e chi ha fatto domanda nei termini ha avuto garantito il diritto a mantenere la competenza dell'acqua per l'entità storicamente utilizzata senza la possibilità di concorrenza da parte dei terzi per l'utilizzo delle medesime e acque. Queste sono le due fattispecie per quanto riguarda gli utilizzi già in essere ed esistenti sul territorio. Per dare un'idea nel territorio della città metropolitana abbiamo circa 300 utenze con titolo vigente o in corso di rinnovo di riconoscimento di antico diritto, mentre invece per quanto riguarda le utenze in regime di concessione preferenziale queste sono molto più numerose, abbiamo circa 7000 pozzi, oltre 1300 sorgenti, circa 200 predicaptazioni di acque superficiali e poi un numero residuale di fontanili e trincee drenanti. In questa tabella è possibile vedere come oltre il 90% delle utenze già esistenti afferisce gli utilizzi agricoli, industriali e potabili che sono serviti per lo più da pozzi o da sorgenti nel caso dell'utilizzo potabile. Gli altri utilizzi con le relative opere di captazione appaiono invece residuali. Per quanto riguarda invece l'eventuale necessità di acquisire un titolo per attuare un nuovo prelievo, la normativa dice che può presentare domande di concessione chiunque abbia necessità di utilizzare le acque e ciò deve essere fatto al di fuori dei casi di esclusione che abbiamo visto in precedenza parlando dell'ambito di applicazione, in ogni caso per prelievi idrici di qualunque entità, sia che si tratti di acque superficiali, sia che si tratti di acque sotterranee e anche ove l'utilizzatore non sia un privato ma una pubblica amministrazione. Abbiamo una quarta fattispecie che attiene l'uso plurimo delle acque, a questa fattispecie sono soggetti i consorzi irrigui oppure i gestori delle infrastrutture del servizio idrico integrato, purché questi soggetti siano titolari di derivazione legittimamente in atto ed abbiano necessità di utilizzare le acque per un secondo scopo, diverso da quello esclusivo irriguo o potabile già praticato, purché questo secondo utilizzo venga richiesto nell'ambito delle competenze già sentite per l'utilizzo principale e nell'ambito del medesimo periodo di prelievo, soprattutto questo per quanto riguarda l'utilizzo irriguo che normalmente è attuato in maniera stagionale. In questo caso la durata del provvedimento è subordinata alla durata della concessione a cui afferisce l'autorizzazione richiesta e non abbiamo un regime giuridico di concessione ma un regime giuridico di autorizzazione per il fatto appunto che si tratta di attuare un prelievo nell'ambito di una concessione già rilasciata. Una fattispecie ancora diversa è la licenza di attingimento che ha un carattere di provvisorietà conseguente a necessità idriche legate a situazioni contingenti. La licenza di attingimento è anch'essa un'autorizzazione che ha come vincolo il fatto che il prelievo non può essere maggiore di una certa portata istantanea che è definita pari a 60 litri al secondo e il volume annuo deve essere inferiore a 300.000 metri cubi. L'ulteriore caratteristica che deve avere l'attingimento è che questo sia attuato mediante opere mobili e non tramite opere fisse da innestare sulle sponde. Fatto questo rapido discorso sulle modalità con cui può venire sentito un prelievo, parliamo adesso dell'utilizzo energetico delle acque soprattutto per i risvolti che questo utilizzo ha al momento per quanto riguarda le competenze in particolare delle amministrazioni comunali che devono intervenire nella maggior parte dei casi nel corso del procedimento. L'utilizzo idroelettrico è al momento l'utilizzo direi prevalente dal punto di vista delle domande di nuove concessioni di direzione d'acqua in ragione delle politiche di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che hanno negli ultimi tempi comportato un aumento esponenziale delle domande che pervengono alle amministrazioni. L'utilizzo idroelettrico o energetico è disciplinato da due articoli del regolamento 10R 2003 che sono l'articolo 15 bis e l'articolo 26 bis che disciplinano la procedura integrata in un caso con la procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto 387 2003 e nell'altro con la procedura di valutazione di impatto ambientale qualora l'intervento superi le soglie definite dalla legge. Che cosa dice il decreto 387 2003 in merito all'autorizzazione unica che abbiamo poc'anzi richiamato? Il decreto 387 2003 è un decreto attuativo di una direttiva comunitaria relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e stabilisce innanzitutto che le opere per la realizzazione degli impianti, tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e nella fattispecie gli impianti idroelettrici di cui ci stiamo occupando, nonché le relative opere connesse e infrastrutture indispensabili sono di pubblica utilità indifferibili e urgenti. Queste procedure per l'autorizzazione di tale tipo di impianto devono essere autorizzate tramite un procedimento unico che costituisce o che occorra al momento dell'atto finale variante allo strumento urbanistico. Il procedimento viene svolto nel rispetto dei principi di semplificazione della legge 241-90 e il provvedimento finale costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, eventualmente in sostituzione del permesso di costruire rilasciato da parte del comune e nell'ambito dell'istruttoria per la realizzazione di questo intervento possono essere previste delle misure di compensazione che tuttavia non possono essere a favore né della regione né delle province ma esclusivamente a favore del territorio comunale dove l'impianto viene a essere realizzato purché rispondano a criteri sostanzialmente di efficientamento energetico e non possono viceversa essere costituite da compensazioni di natura monetaria. L'ultima disposizione diciamo così importante per gli aspetti che stiamo trattando è che gli impianti di produzione di energia elettrica per legge possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dei vigenti piani urbanistici andando di per sé a costituire per l'appunto variante urbanistica. La soglia in cui ricadono obbligatoriamente gli impianti per quanto riguarda l'applicazione del decreto 387-2003 è pari a 100 kW di potenza installata e dunque è una soglia piuttosto bassa comportando il fatto che quasi tutti gli impianti idroelettrici da realizzare siano soggetti a questa normativa. Per quanto riguarda il ruolo del Comune in questo procedimento c'è da dire che il Comune in linea generale come per tutti i procedimenti di concessione di direzione d'acqua viene coinvolto nella conferenza dei servizi dovendo rendere in conferenza rendere conto, rendere noto l'esito della pubblicazione all'albopretorio dell'ordinanza di ammissione della domanda di istruttoria affinché nella sede della riunione della conferenza dei servizi possano prendersi in esame le eventuali opposizioni pervenute da parte del pubblico e oltre a ciò naturalmente deve esprimere il proprio avviso in ordine agli eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione chiaramente con riferimento alle proprie competenze di rilascio del permesso di costruire e di verifica di competitività urbanistica. Ulteriori competenze residuali del Comune per quanto riguarda i prelevi idrici sono l'autorizzazione della trivellazione dei pozzi ad uso domestico purché non si ricada nell'ambito soggetto a concessione di cui abbiamo parlato prima. Invece per quanto riguarda più nel dettaglio il ruolo del Comune nel procedimento unico ricordo quello che abbiamo appena detto sulla connotazione di variante allo strumento urbanistico che può assumere l'autorizzazione unica che costituisce anche il titolo a costruire e esercizio dell'impianto e il fatto che gli impianti per la produzione di energia elettrica possono essere di per sé ubicati possono costituire di per sé variante urbanistiche e possono essere ubicati in zone anche classificate agricole. Le fonti che disciplinano il procedimento di variante allo strumento urbanistico per l'ambito in esame sono il comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge 56-77 e la circolare del Presidente della Regione Piemonte numero 4 del novembre 2016. In particolare quello che è importante dire è che il comma 15 bis esclude la necessità che gli interventi di cui stiamo parlando siano soggettati alla procedura semplificata di approvazione della variante urbanistica ed infatti attesta che gli aspetti urbanistici e ambientali che afferiscono la variante devono essere valutati nell'ambito del procedimento essendo che l'approvazione del progetto costituisce variante urbanistica per espressa previsione di legge. La circolare del Presidente della Giunta regionale numero 4 del 2016 è volta invece ad esplicitare l'ambito applicativo del comma 15 bis che ho riportato prima e a fornire le relative indicazioni procedimentali. Per quanto riguarda l'ambito applicativo la circolare esplicita che la normativa introdotta dal comma 15 bis deve avere una portata semplificatoria e acceleratoria del procedimento di cui fa parte è anche l'esclusione della variante dalla valutazione ambientale strategica e l'obbligo per le amministrazioni che fanno parte della conferenza dei servizi di concentrare tutte le valutazioni urbanistiche nell'ambito del procedimento insieme alla conferenza dei servizi senza che il Comune possa opporre questioni pregiudiziali di tipo procedurale circa la necessità di svolgere gli adempimenti che normalmente occorrerebbero nell'ambito dell'articolo 17 bis della legge 5677 per le variazioni semplificate. pertanto non possono essere posti in sede di conferenza di servizi di nieghi diciamo così strumentali ma un eventuale parere negativo del Comune deve configurarsi in maniera concreta opponendo delle motivazioni reali e tangibili. Oveciò non sia la circolare esplicita che gli aspetti urbanistici assumono un valore recessivo rispetto al complesso delle valutazioni che devono essere svolte in modo ponderato in seno alla conferenza dei servizi. In sintesi ho elencato in questi due punti quanto ho appena indicato. Non è sufficiente dunque da parte del Comune ai fini della proposizione del dissenso il richiamo al dato formale della classificazione urbanistica dell'area in contrasto con l'intervento proposto e la localizzazione dell'impianto può essere autorizzata anche su un'area incompatibile secondo le previsioni dello strumento urbanistico il quale si intende automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato senza la necessità di attivare previamente la procedura di variazione dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore. Per quanto riguarda le indicazioni procedimentali che sono esplicitate nell'ambito della circolare 4 del 2016 nel momento in cui la realizzazione dell'intervento debba comportare variante urbanistica il proponente deve depositare la documentazione di progetto necessaria alla valutazione istruttoria sulla fattibilità della variante oltre a tutta la documentazione progettuale già normalmente necessaria. La comunicazione del video del procedimento dovrà riportare menzione del fatto che il provvedimento potrà conseguire l'effetto di variazione urbanistico ove l'esito istruttore se è favorevole e tutte le valutazioni che devono essere svolte ai fini della fattibilità della variante e delle eventuali osservazioni a tale scopo devono concludersi nei tempi dettati dalla conferenza dei servizi. Nella conferenza dei servizi conclusiva il Comune deve esprimersi mediante apposta deliberazione del Consiglio Comunale trattandosi di variante dello strumento urbanistico e ciò potrà avvenire oltre che con questa deliberazione anche al limite mediante la formulazione di apposita delega a un soggetto preposto a pronunciarsi in sede della riunione conclusiva della conferenza dei servizi. Successivamente le operazioni di adeguamento materiale degli elaborati urbanistici al piano regolatore che sono decisi in conferenza non necessiteranno di ulteriore procedimento ma potranno essere svolte a seguito dell'autorizzazione dell'intervento. Fatto questo inquadramento diciamo così di tipo più amministrativo procedurale andiamo a vedere qual è il livello pianificatorio da cui poi discendono i criteri di esame dei progetti delle nuove domande di concessione di derivazione d'acqua. Il piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'ottobre 2016 costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate per il sessennio 2015-2021 le misure finalizzate a garantire per l'ambito territoriale di riferimento la corretta utilizzazione delle acque e il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dalle direttive europee. Il piano di gestione fornisce gli obiettivi e le priorità di intervento al piano di tutela delle acque della Regione che declina in ambito regionale le indicazioni formulate a livello di bacino e costituisce inoltre il piano stralcio del piano di bacino del fiume Po. Nessun provvedimento in materia di prelievi o scarichi idrici può venire rilasciato se è in contrasto con le finità del piano o se può compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dal piano stesso. Il piano di gestione suddivide le acque sia superficiali che sotterranee in corpi idrici al fine di consentirne il monitoraggio e verificare la possibilità di mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità che lo stesso piano si prefigge. I corpi idrici in particolare sono porzioni di corsi d'acqua omogenei per tipologia, pressione e stato e rappresentano dunque l'unità di base gestionale del piano. Ad ogni corso d'acqua con bacino superiore a 10 km2 viene attribuita dunque una specifica tipologia fluviale. Per ciascuna tipologia di corpo idrico sono stabilite un insieme di condizioni di riferimento che riflettano quanto più possibile condizioni naturali indisturbate ossia di impatto antropico nullo o trascurabile riferite a elementi di qualità biologica, idromorfologica, chimica e chimico-fisica. Questa è la cartografia dei corpi idrici individuati dal piano di gestione. Ci sono 2026 corpi idrici fluviali, dunque superficiali, a loro volta suddivisi in naturali, artificiali o altamente modificati e poi vi sono 147 corpi idrici sotterranei anch'essi suddivisi in sistema di pianura superficiale, di pianura profondo, colinare montano e di fondo valle. Il numero di corpi idrici dipende da diversi fattori. La normativa prevede che venga selezionato un numero congulo di corpi idrici da monitorare e prevede che ogni tipologia fluviale sia adeguatamente rappresentata nelle reti di monitoraggio al fine di fornire un quadro esaustivo dello stato di qualità. In generale sono monitorati circa il 30% dei corpi idrici appartenenti a ciascuna tipologia fluviale con l'obiettivo evidentemente di limitare il numero di tipologie e conseguentemente di corpi idrici da monitorare. Per ogni tipologia fluviale sono selezionati i corpi idrici rappresentativi delle pressioni più significative che sono potenzialmente influenti sullo stato di qualità e quindi sul grado di raggiungimento, sul rischio di raggiungimento degli obiettivi di qualità, mentre viene altresì selezionato un certo numero di corpi idrici privi di pressioni significative o comunque non a rischio di raggiungimento degli obiettivi di qualità appunto per consentire il confronto tra queste due fattispecie. Dunque i corpi idrici sono monitorati sulla base di questi criteri unitamente a tutti i siti di riferimento che sono rappresentati dai corpi idrici privi di pressioni significative e unitamente i corpi idrici che ricadono in aree protette la cui istituzione sia direttamente riconducibile alla tutela dell'ambiente acquatico. Una volta che siano stati definiti i corpi idrici da monitorare tutti i restanti corpi idrici che sono rimasti esclusi vengono raggruppati secondo criteri specificatamente previsti da un apposito decreto e le condizioni necessarie al raggruppamento sono l'appartenenza alla stessa tipologia fluviale e alla stessa categoria, quindi corpi idrici naturali, artificiali o altamente modificati come abbiamo visto prima, l'appartenenza alla stessa classe di rischio con pressioni comparabili è il fatto di avere i medesimi obiettivi di qualità. Fatta questa operazione la classe di qualità che risulta dai dati di monitoraggio che sono condotti sui corpi idrici rappresentativi all'interno del gruppo si applica a tutti i corpi idrici del medesimo raggruppamento. Una volta dunque individuati i corpi idrici e fatti gli accorpamenti sulla base di quanto abbiamo detto il piano di gestione individua una rete di monitoraggio degli stessi, rete che è gestita dall'ARPA in termini di operatività del monitoraggio e il monitoraggio viene condotto al fine di verificare la qualità ambientale, classificare i corpi idrici e valutare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità in rapporto ai fattori di pressione, tra i quali fattori di pressione troviamo anche le derivazioni d'acqua. I corpi idrici sono classificati in una delle cinque classi di riferimento per la qualità di stato ecologico, classi di riferimento che sono definite quale elevato, buono, sufficiente, scarso o cattivo, che dipendono in sostanza dal grado di deviazione delle condizioni di riferimento, dalle condizioni che sono riscontrate per ciascun elemento di qualità biologica che va a definire lo stato ecologico del corso d'acqua anche sulla base di altri elementi a supporto quali gli elementi idrologici, morfologici e soprattutto fisico-chimici e chimici. Il piano di tutela delle acque è invece lo strumento che declina a livello regionale le disposizioni del piano di gestione fatto, costruito a livello di bacino del Po. Il piano di tutela quindi deve attenersi agli obiettivi e alle priorità di intervento del piano di gestione e adesso evidentemente devono fare riferimento tutti i provvedimenti delle amministrazioni in modo tale che per effetto di questi provvedimenti non venga compromesso il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità in esso fissati, così come già per il piano di gestione. Il piano di tutela delle acque individua i corpi idrici soggetti e obiettivi di qualità ambientale, quelli a specifica destinazione e le aree sottoposte a specifica tutela. In particolare i corpi idrici soggetti e obiettivi di qualità ambientale sono divisi in corpi idrici significativi, in corpi idrici che per le loro caratteristiche qualitative e quantitative possono avere un'influenza rilevante sui corpi idrici significativi e in corpi idrici che per valori naturalistici o paesaggistici hanno rilevante interesse ambientale. In questa tavola di piano, riportante i corpi idrici soggetti e obiettivi di qualità ambientale, si possono vedere quali sono questi corpi idrici che fondamentalmente corrispondono al po e ai principali affluenti. Il PTA individua per questi corpi idrici soggetti e obiettivi di qualità le misure atte a conseguire, entro i termini che sono stabiliti nel piano di gestione, il mantenimento o il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di buono o elevato. Le misure di tutela qualitativa e quantitativa sono misure di carattere sia generale che misure specifiche a livello di aree, quindi di ambito territoriale, per i quali il piano di tutela prevede una specifica, specifiche monografie, definisce la cadenza temporale dell'intervento e il programma di verifica dell'efficacia degli interventi. Per quanto riguarda le misure di tutela qualitativa per quello che attiene i prelievi idrici, la misura principale è costituita dagli interventi di ricondizionamento dell'opera di capolazione delle acque sotterranee, questa è una misura che attiene per lo più il comparto acque sotterranee piuttosto che il comparto acque superficiali ed è una misura volta a adeguare la struttura dei pozzi esistenti agli attuali standard di legge che prevedono il divieto di miscelazione tra le acque di falda profonda destinata al consumo umano e quindi potenzialmente di migliore qualità con le acque di falda superficiale che viceversa hanno una peggiore qualità delle acque e sono potenzialmente inquinate. Le misure di tutela quantitativa individuate dal PTA invece sono il deflusso mino vitale, il riequilibrio del bilancio idrico e gli obblighi di installazione dei misuratori di portata e volumetrici. Il deflusso mino vitale è il rilascio che deve essere attuato in corrispondenza di ogni prelevo idrico di corso d'acqua superficiale e quando è stato introdotto tale obbligo di rilascio non era ancora vigente per le traverse esistenti ed è stato invece inserito mentre naturalmente per tutte le nuove domande a decorrere dall'entrata in vigore di questa misura è stato introdotto l'obbligo appunto del rilascio a valle di ogni punto di captazione. Il riequilibrio del bilancio idrico è una misura volta alla rimodulazione delle competenze irrigue sulla base dell'effettivo idroesigenza ed è un'attività che al momento è in corso di svolgimento su ciascun comprensorio irrigue del territorio. In ultimo, l'ultima misura di tutela quantitativa è l'obbligo di installazione dei misuratori di portata e volumetrici che è un'attività da un lato con valenza conoscitiva ai fini della definizione del bilancio idrico di bacino e dall'altro con valenza di controllo del corretto approvvigionamento in termini quantitativi delle derivazioni d'acqua che esistono sul territorio. Veniamo ai corpi idrici a specifica destinazione anche se individuati nell'ambito del piano di tutela. Queste sono le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acque potabili, le acque utilizzate per la balneazione, le acque che richiedono protezione e miglioramento per essere ridone alla vita dei pesci e le acque destinate agli sport di acqua viva che possono vedersi nella pratica in questa slide dove possiamo vedere in rosso le acque salmonicole, in verde le acque ciprinicole e in giallo le acque destinate agli sport di acqua viva. Le misure che individua il PTA per questa tipologia di corpi idrici sono misure sostanzialmente volte a consentire per queste acque il mantenimento in limiti tabellari specificatamente previsti proprio per la tipologia di destinazione di queste acque in appositi decreti, il 152 del 2006 e il 470 dell'82. Ci sono poi in ultimo le aree sottoposte a specifica tutela che sono le aree sensibili costituite dai laghi e relativi bacini drenanti, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e prodotti fitosanitari, le aree elevate protezione, le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano e le aree di salvaguardia delle acque destinate sia al consumo umano che delle acque minerali e termali. Come si possono vedere definite in queste slide che riportano le tavole del piano, in quella a sinistra le aree sensibili costituite dai laghi e relativi bacini drenanti, le aree elevate protezione sulla destra, quindi aree protette nazionali, regionali, SIC, ZPS e in queste altre due tavole le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari. Per le aree sottoposte a specifica tutela il PTA nell'ambito di ciascuna norma di area, quindi a livello territoriale, individua le misure atte a conseguire gli obiettivi in funzione delle normative di settore vigenti e delle specifiche caratteristiche delle aree. Andiamo a vedere come questi strumenti di pianificazione incidono sui criteri di esame dei progetti. La direttiva derivazioni in particolare è lo strumento attuativo del piano di gestione del distretto idrografico del Po e a effetto vincolante su tutte le domande pervenute successivamente alla sua entrata in vigore. E dunque questa direttiva è lo strumento per la valutazione ambientale delle derivazioni idriche sui corpi idrici interessati in relazione agli obiettivi di qualità che sono assunti nel piano di gestione. In particolare la valutazione della proposta di una nuova derivazione viene attuata con l'applicazione della cosiddetta matrice ERA definendo gli eventuali rischi che la realizzazione del nuovo progetto può comportare per la qualità ambientale del corpo idrico. A fronte di tale definizione l'intervento può ricadere in area di esclusione, in area di repulsione o in area di attrazione. laddove l'intervento ricada in area di esclusione evidenziata in questa slide con il colore rosso è ragionevolmente certo che l'intervento avrà un effetto negativo sulla qualità ambientale del corpo idrico e dunque per il principio di cui si è parlato prima di non poter autorizzare interventi che incidano negativamente sul raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità la domanda riportante la richiesta di nuovo prelievo non può essere assentita e dovrà essere diniegata. Ove l'applicazione della matrice faccia ricadere l'intervento in area di repulsione esistono fondati rischi di un'interferenza con la qualità ambientale del corpo idrico e devono essere pertanto effettuati in sede istruttoria appositi a approfondimenti volti a scongiurare tale eventualità mentre ove si ricade in area di attrazione non vi sarebbero particolari rischi per la qualità ambientale del corpo idrico e l'intervento richiesto può essere assentito. Vediamo però come si svolge la valutazione di questo rischio. La valutazione del rischio si compie grazie a questa matrice in cui viene associato lo stato ecologico del corpo idrico definito grazie alla rete di monitoraggio prevista dal piano di gestione che abbiamo descritto prima con l'impatto atteso generato dall'intervento quindi un impatto atteso che può essere di tipo lieve moderato o rilevante. Osservando questa matrice è evidente come la sua applicazione tenda a preservare i corpi idrici che si trovano in stato di qualità elevato o buono riducendo la possibilità di nuove realizzazioni e andando quindi a attuare il principio di mantenimento o raggiungimento proprio di questi obiettivi di qualità buono o elevato sanciti dal piano di gestione. Occorre quindi ancora a questo punto capire come viene valutato l'impatto atteso generato dall'intervento. Anche in questo caso lo strumento è un'ulteriore matrice che vuole definire l'entità della pressione idrologico-morfologica sul corpo idrico sulla base di due diversi indicatori. Da un lato il rapporto tra la lunghezza del tratto sotteso dall'intervento e la lunghezza del corpo idrico e dall'altro il rapporto tra la portata massima derivabile dall'intervento e la portata media naturalizzata dal corpo idrico. Andando a vedere quali sono i rapporti tra queste due grandezze in funzione delle soglie che potete vedere nella slide si va a capire quando l'impatto atteso è ritenuto lieve piuttosto che moderato piuttosto che rilevante. Le soglie poi possono cambiare in funzione del fatto che il corpo idrico si è già impattato o meno dalla presenza di altri impianti così come cambiano anche adesso questa slide riguarda l'esame di un impianto idroelettrico della compatibilità di un impianto idroelettrico ci sono altre variazioni in caso di prelievi non di tipo non di questo tipo ma di tipo dissipativo quali gli utilizzi agricoli però adesso senza entrare troppo nel dettaglio il principio è questo di verificare dunque a livello di pressioni idrologiche e morfologiche sul corpo idrico l'impatto atteso sullo stato di qualità ambientale del corpo idrico. In ultimo questo diagramma di flusso vuole evidenziare quale deve essere considerato lo stato di qualità ambientale del corpo idrico da impiegare nella matrice ERA sulla base di quanto si è detto prima circa la classificazione dei corpi idrici sulla base della rete di monitoraggio. In pratica per i corpi idrici classificati e monitorati lo stato ecologico viene considerato quello ufficiale disponibile per i corpi idrici classificati per l'aggruppamento se lo stato ecologico non è inferiore al buono si assume lo stato indicato nella classificazione viceversa ad ufficio si assume lo stato sufficiente per i corpi idrici non classificati nell'ottica della massima tutela a parte casi residuali si assume che lo stato del corpo idrico sia elevato. Questo in quanto normalmente in linea generale i corpi idrici non classificati comunque sono costituiti o da corpi idrici con posti alle testate di bacino con bacino sotteso molto piccolo inferiore ai 10 km quadrati oppure corpi idrici che necessitano di tutela in quanto sono ubicati all'interno di aree designate per la protezione di abitate specie in registri di aree protette SIC e ZPS. Io con questo avrei finito e grazie per l'attenzione.